A Tabora, non le dico il posello, non può aprire. A Tabora, non le dico il posello, non può aprire. Quindi dopo, se volete, terminata la celebrazione potete vedere in formato più grande nella cappellina interna, quindi noi qui ci ricorderemo di lei e lei nel suo studio a Tabora potrà avere questa riproduzione più piccola, così saremo in comunione di preghiera. E dopo la celebrazione, uscendo, potremo fare due cose, vedere pian piano, non tutti insieme perché non entreremo perché la cappellina interna non è molto grande, per vedere il ritratto del cardinale e poi uscendo faremo insieme un brindisi. E poi avremo anche i canti del coro tanzaniano, quindi continua la festa. E adesso ha luogo l'aspetto più giuridico di tutta questa celebrazione che è il rogito. Quindi adesso ci sediamo e ci sono anche dei rappresentanti, Cristina, Patrizia.